A me non piace molto la retorica, quindi senza troppi giri di parole, senza troppa veramente retorica, questo era il nostro modo per ricordare il grandissimo Lou Reed, scomparso ieri all'età di 71 anni e questo era Take a Walk on the Wild Side, un pezzo del 72, forse il più famoso di Lou Reed, ma era ovviamente il nostro modo per omaggiare questo grande, questo grandissimo della musica rock che ricorderemo ovviamente sempre. Allora, ora invece parliamo del punto doc, però prima di parlarne, jingle! Gioca con noi sul profilo Facebook di Radio Bari, vinci più che puoi e ascolti quando puoi. Ed ecco infatti, a proposito di giocare con Radio Bari, sulla nostra pagina Facebook di Radio Bari, non solo quella di radiobari.cat, lasciamo un attimo da parte, sulla pagina Facebook di Radio Bari, insomma, tanti sono i concorsi ogni giorno, davvero, andate a controllare. Ed è proprio in questa settimana, fino ad oggi, ve lo dico, oggi è l'ultimo giorno, no? Stiamo con un concorso, potete, avete la possibilità di vincere un biglietto per questo evento nazionale di importanza, credo, mondiale. L'abbiamo messo in calendario, sto parlando di Through the Never, metallica in 3D, che si trarà al Multicinema Galleria il 29 e il 30. Quindi potete, attraverso questo concorso, giocare con noi, divertirvi, essere sempre aggiornati, insomma, su quello che succede di mattina, di pomeriggio, quella che è la nostra programmazione, ma potete anche vincere, avere l'opportunità di vincere dei biglietti, sia per martedì che per mercoledì, per, insomma, questo concerto, per questo evento unico, veramente, davvero. Due giorni dedicati ai metallica, agli appassionati del genere, insomma, accorrete sulla pagina Facebook di Radio Bari. E invece vi ricordo, in chiusura, la nostra pagina Facebook del nostro programma, radiobari.cat, e il nostro indirizzo mail, .calt, chiocciola, radiobari.net. Io ringrazio, come ogni mattina, Federico Semplice per la regia di Telebari e Gianluigi Gigi Maggi per la regia di Radio Bari. Grazie Gigi anche per questa mattina, l'appuntamento con radiobari.cat, ovviamente, e per domani, sempre tanti ospiti, tanti eventi di cui parlare e tanto, tanto anche divertimento. Buona giornata a tutti, ciao!